finalmente eccola grazie al portale russo siamo riusciti sono riuscito grazie anche ai tutor del movimento 5 stelle a convertire in legge un'idea un'idea che proprio grazie a russo era nata semplicemente a casa mia sul divano di casa mia e dove essere pensato fosse soltanto una mia proposta invece è stata votata da più di 4 mila persone 4 mila di voi e oggi diventa inizialità per diventare una legge vera e propria russo ha dato a me la possibilità di farlo diventare realtà e quindi può portare chiunque di voi avere un'idea e farla diventare qualcosa di concreto è stato semplicissimo perché veramente russo per quanto mi riguarda è stato veramente semplice scrivere e proporre questa questa legge quest'idea di legge è stato bellissimo farla diventare una vera proposta di legge certo non è perfetta e a questo punto chiedo a tutti quanti voi di magari migliorarla perdere un minuto di tempo leggerla e trovare dei punti migliorabili in modo tale che possa essere una legge veramente condivisa se avete voglia di proporre una vostra legge c'è soltanto un manu una maniera adesso in italia ed è il portale russo del movimento 5 stelle invito tutti quanti a utilizzarlo non è perfetto